A Laurino cresce il numero dei contagiati da Covid e gli ospedalizzati, 33 positivi, ma il numero potrebbe salire già nelle prossime ore quando saranno disponibili gli esiti dei tamponi effettuati sui contatti di caso. Tra le persone che hanno contratto il virus ci sono alunni dell'infanzia e delle primarie e il parroco del paese, Don Loreto Ferrarese. Dei 33 positivi, 6 sono ricoverati presso il centro Covid di Agropoli. Due di questi sono Suore, la più giovane in terapia intensiva. Le condizioni della monaca più anziana, 88 anni, per il momento non destano particolari preoccupazioni. Con l'aumentare dei numeri dei contagiati, in paese sono cresciute anche le polemiche sulle origini del cluster. Sotto accusa è finito anche il parroco per non aver utilizzato in chiesa la mascherina e soprattutto per aver assunto fin dall'inizio della pandemia un atteggiamento critico rispetto alle restrizioni imposte contro la diffusione del coronavirus, vaccino incluso. Don Loreto è parroco anche di Campora e Valle dell'Angelo e appena si è avuta la conferma della sua positività, in entrambi i comuni sono stati eseguiti tamponi su chi ha avuto un contatto diretto con il sacerdote. Entrambe le comunità, con apprezzione, attendono gli esiti. Tutto potrebbe essere iniziato il 22 maggio, in occasione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona, ai quali hanno preso parte anche i fedeli del vicino comune di Piaggine, dove i positivi sono saliti a 19. Due di questi però vivono altrove, dove stanno trascorrendo la quarantena. Il rischio è che da quelle parti del Salernitano la curva epidemiologica continui a salire, in controtendenza rispetto al resto della provincia.